C'era una volta un benestante faccendiere chiamato Albert Scrooge. Mamma che freddo! Accendi un po' il riscaldamento, signore! Certo! Fallo! Cos'è finalmente di licenza! Scrooge era dunque un uomo provvisto del classico pugno di ferro nel tenere il timone, abile nell'afferrare il prossimo, spremendo i clienti e torcendo i dipendenti. Per il ciclo è possibile, signore? Per... ...ferro! Non sei il pezzo di patata crudo di ieri, ora, ordo, sì! Lascia che ti appoggi una madre. A te importa ben poco. Un altro idolo ha preso il mio cuore. E se esso potrà solo rallegrarti e confortarti come un cercato di freglie. Vuoi salire i suoi pensieri? La venità? La duezza di prore? Mi interessa soltanto nell'arricchirsi. Quell'uomo è lo stesso di cui stavano parlando quelle donne poco fa? A te importa ben poco. Sì. Ma che cosa? A te importa ben poco. Cosa? Sì. Ma che cosa?